No, devo capire perché la gente continua a uscire. Cioè, fai un round, lo perdi, va bene, ma perché devi uscire, devi quittare? Ora siamo in 4 contro 2, vabbè, la prima l'abbiamo vinta, raga, adesso ho sciato il nuovo tank per questa nuova partita e speriamo di riuscire a fare almeno qualche kill a sto giro. E via, partiamo. Allora, ma... Perché vedo prima persona? Cosa è diventato un FPS, improvvisamente? Non posso sparare. Che cazzo... Perché sono in prima persona? Cioè, se provo a mirare, posso mirare, mi dà una crocetta e non riesco a capire che cazzo... Ma... Oh mio Dio! Perché io mi vedo a 430 metri? Cos'è? Cioè, io sono nato dalla parte opposta. Che cazzo... Che bug! Oddio! Sono un'entità! Sono un fantasma che vaga per la mappa! In effetti non... Cioè, sembro davvero un... Un fantasma! Vabbè che si chiama Ghost Recon, però... Sembra esagerato! Non posso far nulla! Guarda, guarda, laggiù! Eh, ok, si sono uniti due alla partita, ma io sono laggiù! Tra l'altro è fuori mappa! Guardate in basso, a destra... È fuori mappa! Cioè, sono uscito dai confini della mappa? Come torno nell'area di missione? Sono a 200 metri fu... Fu... Come diserzio... Come diserzio... Sono crepato! Oh, madonna, ragazzi, non ci ho capito un cazzo... Cioè, guardate... Sono a 600 metri distante dal mio compagno... Sono fuori mappa completo! Ma ci sono io nel gioco? Penso di sì! Dovrei esserci! È anche morto un mio socio lì vicino! Eccomi! Ecco, cioè, ci sono! Effettivamente, ci sono, ma sono fuori mappa! Oh, madonna! Che cazzo sta succedendo? No, abbiamo pure vinto! Cioè, è incredibile! Abbiamo pure vinto! Guarda, guarda, Fiero! Fiero che corre lì per la mappa col suo P90 in mano! Raga, sono stato per un attimo un vero fantasma su Ghost Recon Wildlands! Roba da matti!